partiti in questo momento calcio d'inizio della città di Messina che manovra sul settore sinistro con Mondello le ultime gare certamente non positive attenzione però al città di Messina subito ci prova con il sinistro c'era lo Cisano fuori dai pali spazio davanti a sé sulla destra supera un avversario con un buon dribbling poi l'esterno per incoronato limite dell'aria ancora palonetto ci prova con il destro blocca molto bene di Dio esposito al limite pensa al tiro poi ci poi serve Ianni e lui in aria verso incoronato che ha provato il tac Savoia c'è vivo e Giraldi recupera la sfera servendola a Savarese siamo alla tre quarti il tocco per incoronato Savarese al limite attenzione il sinistro di Dio ci arriva la stessa parte guarda con il sinistro palo e gol gol Savoia in vantaggio Marco incoronato di testa ha raccolto la respinta del palo sulla posizione perfetta calciata da guarro Siciliani termina a terra il direttore di gara gli indica di rialzarsi a muso duro attenzione ancora il città di Messina però in area di rigore con questa percussione al centro Saraniti rete rete il pareggio del città di Messina l'errore stato di Giraldi esposito e serve ancora verso pallonetto attenzione ottimo spunto il destro di pallonetto la parata però giocando molto bene Marco incoronato in possesso di palla il tocco per Savarese siamo al limite entra in area Giuseppe Savarese il sinistro che non prende però il giro giusto abbastanza confusa quella del Savoia poi guarro potrebbe metterla al centro lo fa in questo momento un buon cross per il coronato copere esposito insolitamente in posizione avanzata Savarese in area di rigore attenzione il cross con il destro ci arriva di Dio esposito la rete rete il Savoia in vantaggio il secondo gol in campionato di Gianluca esposito momento anche al tiro esposito ancora grande intervento sfera che però perviene a Citro traversone verso Tiscione che si coordina con il sinistro di poco fuori Siciliano il tocco per Citro Citro è ottimo movimento e danni di un avversario Tiscione Citro sinistro che brividi bentornati amici ascoltatori Salvatore Piro collegato in diretta dal giro di torre annunziata Lotti attenzione allora Tiscione per il Città di Messina buona scienza al limite dell'aria il tocco in area di rigore si salva l'area di rigore poi scivola e allora Saraniti traversone tutto solo Tiscione e il miracolo di Lo Cisano se la cava bene il Città di Messina il Savoia è tutto in avanti e c'è il lancio per Citro attenzione in area di rigore il numero undici corso sinistro Lo Cisano il Savoia è tutto proteso nella propria area di rigore per cercare di mantenere in vantaggio ancora una volta la conclusione di Citro Savarese in surplus supera un avversario bene si porta al limite dell'aria c'è Ianiello vicino a lui Ianiello pronto a calciare con il sinistro troppo però centrale faccio campista che ruba palla attenzione si porta al limite il destro la parata cappello lancio in avanti di Camarda attenzione buona opportunità per il città di Messina proprio nel finale in area di rigore il destro fuori